A Luca gira un'attraente notizia a proposito del recupero dell'ex manifattura. Dice che parte del ballorado di San Paolino sarà venduto o ceduto per 50 anni a privati che avranno avuto la fortuna di acquistare uno dei 90 appartamenti previsti da recupero. All'osso proprietà pubblica diventa giardino privato. In comune non ne sanno niente, ma l'idea che il sindaco Tambellini possa emulare in qualche modo Totò che vendeva la fontana di Trevi all'americano di turno è sicuramente intrigante, anche se per renderla verosimile ci vorrebbe qualcosa di più. Neppure San Paolino, che di Luca se ne intende perché ne è il padrono, sembra che l'abbia preso bene, non tanto per il ballorado della città murata quanto per il fiato corto dei suoi abitanti, lui che di strada ne ha fatta tanta. Per fortuna a breve tutti i protagonisti della storia vera del progetto della Manufattura arriveranno tutti in Consiglio Comunale. Offerte e controfferte, bufale e notizie vere, pretese e sensi di limite, e tutto in un contesto però indebolito dalla volatilità del lavoro e anche dall'allarme per muove rischi pandemici. C'è solo da augurarsi che i capitali umani e i capitali finanziari in qualche modo riescano a dialogare, coscienti di un futuro prossimo già visibile in tutta la sua drammaticità. Diversamente neppure San Paolino potrà dare una mano.